Anche giovedì Rimini si è risvegliata sotto una coltre di neve. Qui ci troviamo sulla spiaggia, completamente imbiancata, una cartolina insolita se la si paragona al brulicare di turisti in costume da bagno in estate. La neve caduta dalla prima mattinata ha causato disagio alla circolazione. Sulla statale adriatica si circola con l'obbligo di catene. La prefettura ha poi disposto il divieto di transito per i mezzi pesanti. Qui ci troviamo all'ingresso del casello di Rimini Sud dove una pattuglia della polizia municipale ferma i mezzi pesanti in entrata. Lunga la fila di camion sul ciglio della strada in attesa di poter rientrare sulla A14. Disagi anche sul fronte ferroviario con il numero di coinvogli ridotti e ritardi che superano anche i 60 minuti. Limitazioni anche al trasporto pubblico locale sia alle linee extraurbane che a quelle urbane. scuole che in tutto il circoneo riminese rimangono chiuse anche giovedì. E per venerdì il pericolo previsto è quello del gellicidio, ovvero delle strade che si trasformano in lastre di ghiaccio sia sui rilievi che sulla costa. Dunque massima attenzione da prestare alla guida.